Beh, ma come si parla in un bar, insomma, cioè si è parlato di piacere di vedere una partita dove speriamo che i giocatori stiano bene e quindi di avere un buon risultato, insomma, niente di più. Quanto è importante per l'Inter questa sfida anche in chiave terzo posto? Beh, è importante far punti, che sia contro la Juve o contro altre squadre, comunque è importante in questo momento far punti e quindi, sì, ci tocca la squadra più forte del campionato ma non possiamo cambiare l'obiettivo, insomma.